Nuovo boom di guariti a Torre del Greco. Ieri si sono registrate 101 guarigioni e nessun decesso, numeri che fanno ben sperare dopo i decessi degli scorsi giorni. Tuttavia sono 8 nuovi positivi nel comune Corallino, attualmente in isolamento domiciliare. Segnalati anche ulteriori 67 tamponi effettuati, i risultati nei prossimi giorni. Si abbassa ancora il bilancio dei contagiati con 177 attualmente positivi, di cui 15 ospedalizzati. Sono 8 le guarigioni invece a Torre Annunziata e 2 i nuovi positivi su 117 tamponi effettuati, con l'indice di positività che si attesta all'1,71%. In calo il numero di cittadini positivi, attualmente 74. Per quanto riguarda i dati delle vaccinazioni, il Comune Oplontino registra 13.020 persone vaccinate, di cui 3.758 con prima e seconda dose. La percentuale è alcolata sul numero delle prime dosi in rapporto al numero degli abitanti e al 22%. Prosegue la campagna di vaccinazione anche a Portici, dove si segnala una percentuale del 36,84 vaccinati con prima dose. Nel dettaglio sono 23.609 i cittadini con almeno una dose ricevuta, 6.485 con prima e seconda dose.